Raggiungere 10.000 firme per chiedere il ripristino della commissione medica invalidi civili nel locale sede INPS è l'obiettivo che si è prefissato lo SPAI CGL di Sapri. La raccolta è già partita negli uffici della Camera del Lavoro. Il governatore Caldoro ha deciso in sordina sulla testa dei cittadini dei 28 comuni cilentani del piano di zona Salerno 9 la chiusura della commissione medica postandola a Salerno. Non si può più giocare in questo modo sulla pelle dei più deboli, afferma il segretario dello SPAI CGL di Sapri Gerardo Triani, il quale annuncia a breve l'organizzazione di una serie di gazebo pubblici. Per i segretari provinciali della CGL dello SPAI, Maria Di Serio e Gerardo Barrella, si tratta di una situazione che non riguarda pacchi postali ma anziani e persone che non riescono a muoversi in una provincia vasta come la nostra, dove la viabilità e i trasporti hanno un'efficienza rapportabile a quella di fine ottocento. Basterebbe attrezzare con poche spese un gabinetto medico presso la locale sede IMSS, proseguono di serio e barrella in una nota, oppure ricercare soluzioni concordate con il direttore sanitario.